Mare e calcio, estate 2010. Anche quest'anno il Real Besanalesmo organizza lo stage estivo a Zovagli, sull'incantevole Riviera Ligure di Levante. Il corso, tenuto da istruttori ed allenatori di squadre professionistiche, si rivolge in particolare ai ragazzi nati dal 1996 al 2002. Le settimane vanno da sabato a sabato. Il programma inizia il sabato mattina alle 9 e si conclude il venerdì sera, con mattinata, spiaggia e mare, pomeriggio, scuola di calcio. Le quote settimanali 300 euro, per due settimane 500 euro, naturalmente comprensive di vitto, alloggio, spiaggia, istruttore di calcio e campo di calcio. Per saperne di più, rivolgetevi a 335 68 30 758 oppure 333 41 08 895 oppure all'indirizzo di posta elettronica redazione chiocciola canale 11.it o potete chiedere anche a raguagli via fax allo 039 69 81 693. Ricordate l'appuntamento di quest'estate a Zoagli. Mare e calcio, estate 2010.